27 aprile 2022 malinconia sentire questa canzone sentire com'è bella questa canzone questo cantante è morto due giorni fa a 62 anni quando cantava quando avrò 64 anni ebbene non è arrivato a quell'età le sue canzoni dei cugini di campagna li conosco tutte una per una non è arrivato a 64 anni così bello così romantico sono qua alla stazione di dorio ma perché perché alla chesina di san giorgio ho cantato la canzone dei cugini di campagna di kim preghiera alla chesina di san giorgio e sono qua a guardare il cielo io che ho 68 anni vivo vivo ogni giorno non stoppe nei viaggi fin quando ce la farò mi ricordo che avevo 30 anni e ascoltavo la canzone dei cugini di campagna quando avrò 64 anni sono passati così tanti anni non pensavo di arrivare alla mia età di avere la terza gioventù a 68 anni non pensavo proprio ogni giorno non stoppe nel vivere emozioni sentimenti umani amicizie da tutte le parti della lombardia ma io vivo 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 qui ad orio sono adesso per ricordare questa bella canzone e a fare il picnic il picnic costoso piuttosto di spendere le piwaguar 12 euro ho preferito fare la merenda da 10 euro il picnic da 10 euro ottimamente bene qui qui alla stazione di dormitorio dove medito rifletto il percorso della mia vita e un esistenza ogni giorno che vivo e un dono che ho in più per vivere non pensavo 30 anni di arrivare alla mia età dopo l'esaurimento che ho visto a quell'epoca ecco che vi faccio vedere d'orio il sole che bacia gli anni della mia vita d'orio d'orio anche se i miei amori le mie donne non ci sono più sono andate in paradiso io esisto rifletto medito che ogni giorno che io passo non è da perdere tempo ma da vivere ogni giorno nella terza età vivere facendo i viaggi i viaggi e i picnic e i picnic spendere soldi l'economia così gira come disse un mio amico dirò far girare l'economia nel spendere i soldi ma guardate che bello il lago di como sponda vale chiese d'orio d'orio io